Una delle caratteristiche importanti per un imprenditore è la perseveranza, cioè la capacità di mantenere la focalizzazione sul proprio obiettivo, non farsi buttare giù e non arrendersi davanti agli ostacoli. Ovviamente non vuol dire continuare in perterrito su una strada che risulta difficile o non quella giusta per lo sviluppo dell'azienda, ma sapere quando cambiare, superare l'ostacolo affrontandolo oppure girando già attorno, che nel gergo delle start-up vuol dire pivotare, cioè cambiare completamente quello che può essere il prodotto o il servizio che si vuole offrire al mercato, mantenendo però la visione di insieme che è stata poi la caratteristica del perché uno ha creato una società, ha creato una start-up.